Il deputato DEM Luciano D'Alfonso attacca la giunta regionale sulle nomine nella sanità. Non pago di aver perso le vertenze di lavoro causate dall'improvvida rimozione di Alfonso Mascitelli dell'Agenzia Sanitaria Regionale e di Armando Mancini dalla direzione della ASL di Pescara, dichiara il deputato DEM, il presidente in scadenza Marsilio mette in atto nuove ingerenze nella sanità attraverso la mancata riconferma del direttore sanitario dell'ASL di Chieti, Angelo Muraglia. Una riconferma, che spiega D'Alfonso, era chiesta a gran voce dal comitato dei sindaci con l'assenso del direttore generale Thomas Scheu. Il deputato del PD ripercorre i casi di Mascitelli e Mancini fatti decadere dai loro incarichi prima della scadenza naturale dei rispettivi mandati e successivamente vincitori delle cause di lavoro intentate contro la regione Abruzzo a guida centrodestra. La protervia di questa classe dirigente regionale ha conosciuto una doppia sconfitta, dice D'Alfonso, ma a quanto pare non è bastato. Il deputato DEM prosegue tornando poi a parlare della situazione relativa al direttore sanitario dell'ASL Teatina, Angelo Muraglia. Il suo contratto in scadenza, dichiara D'Alfonso, non è stato rinnovato dalla regione Abruzzo, nonostante una precisa richiesta in tal senso del comitato dei sindaci, cui si era uniformato anche il direttore generale Thomas Scheu. Marsilio ha cercato di bypassare l'argomento sostenendo la sua non competenza sulla materia, ma è chiaro che dietro questa mancata riconferma c'è una volontà politica. Come da prassi consolidata, conclude D'Alfonso, questa giunta regionale considera il merito come un fattore marginale alle competenze interne e preferisce qualche paracadutato da fuori. D'Alfonso, tirando le somme della situazione sulle nomine in sanità, chiude la sua nota con una stilettata che guarda al prossimo futuro, sia alle regionali del 2024. Forse, dice il DEM, nei corridoi di Palazzo Silone è scoppiata un'epidemia di esterofilia, nel qual caso bisognerebbe intervenire con una profilassia adeguata, ma tra qualche mese saranno gli abruzzesi a sradicare certe patologie.